Bentornati nel mio canale youtube, oggi parliamo di calibrazione di gimbal Vi chiedo innanzitutto scusa per le luci che non ci sono e per l'audio che probabilmente è un po' più scadente del solito Per il semplice motivo che mi si sono rotti i radiomicrofoni e mi hanno tolto la luce alle 8 e mezzo di questa mattina Però andiamo avanti con la programmazione di tutti i vari video Anche perché poi per il mese di luglio e il mese di agosto non ci sarò e avrei piacere di creare comunque dei contenuti da mettere sul canale E oggi parliamo di come andare a calibrare i gimbal In questo caso ho in mano un gimbal della Gutsen, il Moza Air che ho acquistato più di due anni fa direi ormai E di cui sono innamorato pazzamente Non ho mai fatto la recensione di questo gimbal per il semplice motivo che non ho mai imparato ad utilizzarlo abbastanza bene E quando ho imparato ad utilizzarlo abbastanza bene ero pieno zeppo di lavoro e non sono mai riuscito a farlo Oggi vi insegno a calibrare un gimbal Chissà che poi non esca una rubrica su come utilizzare questi splendidi accessori alle nostre telecamere La telecamera che vedete sopra al gimbal è una Sony Alpha 6300 con un'ottica montata che è la 18-105 sempre di casa Sony E come vedete il gimbal è bilanciato in questo momento perché in qualsiasi posizione io vada a mettere questo gioiellino La telecamera rimane ferma nella posizione in cui la vado a mettere Quindi questo vuol dire calibrare correttamente un gimbal I motori ovviamente in questo momento sono spenti Perché calibrare un gimbal? I gimbal vanno calibrati per il semplice motivo che i motori 1, 2 e 3 hanno la necessità di lavorare il meno possibile Quindi di essere sforzati il meno possibile Per poter essere sforzati il meno possibile è buona cosa permettere loro di lavorare in maniera meno faticosa Per renderla meno faticosa è indispensabile andare a calibrare il nostro attrezzo Partiamo dal presupposto che questa macchina è calibrata e la scalibriamo completamente Quindi andiamo a spostare completamente tutti gli assi come da acquisto E togliamo anche la telecamera dalla nostra base Vado a spostare tutti i blocchi di modo che adesso sia completamente scalibrato Questa è la posizione che utilizzo di solito quando vado a riposizionarlo nella scatola E impariamo a capire come funziona Prima di tutto bisogna decidere che cosa andare a montare sulla telecamera Quindi ricordatevi di mettere già da subito batteria, SD, togliere il coprilente Perché è un peso che darebbe fastidio poi alla calibrazione del gimbal E decidere, in questo caso io ho una Sony con uno schermo che si può aprire in questa maniera qua Andare a decidere quanto andare a aprire o a chiudere il nostro monitorino Io in questo caso lo tengo perfettamente chiuso ma se ad esempio avete una Panasonic, una GH5 Con lo schermo flippabile lateralmente Dovete impostare la telecamera nella configurazione con cui andrete poi a lavorare Altrimenti poi diventerete matti Prima cosa da fare, andiamo a fissare il nostro gimbal sul piatto qui in basso Una cosa che ci tengo a farvi vedere, in questo caso non abbiamo una slitta su questo gimbal Però una cosa che ci tengo a farvi vedere di questo gimbal in particolare È che ha due possibili soluzioni di aggancio Vedete che io sono nella soluzione più vicina al motore laterale Quindi la cosa indispensabile da sapere è che la telecamera deve essere più vicina possibile al motore laterale Il secondo buco, questo qui laterale, serve solo ed esclusivamente quando abbiamo delle telecamere veramente grandi Veramente ingombranti che andrebbero a toccare sul nostro motore Prima cosa da fare è andare a fissare la telecamera E la andiamo a fissare con la sua vitina sotto E questo è il primo step Vedete che abbiamo la telecamera con il gimbal completamente scalibrato È appoggiato lì così Ci sono alcuni passaggi per andare a velocizzare il più possibile la calibrazione della macchina Primo tra tutti c'è questo Mi metto in questa posizione qua così vedo quello che vado a fare anch'io La prima cosa è controllare che questa telecamera sia posizionata non storta ma perfettamente dritta nel piatto sottostante Quindi andrò a posizionarla più verticale possibile, più dritta possibile La prima cosa da fare è cercare di tenere questa telecamera più orizzontale In questo momento sta pendendo verso avanti Quindi la cosa che dovrò fare è spostare la telecamera leggermente indietro Magari mi giro così, così la vedete meglio Fino a quando, tenendo fermo questo braccio Posso vedere meglio se la telecamera ancora barcolla verso avanti E barcolla paurosamente ancora verso avanti Mi sposto ancora indietro E iniziamo piano piano a raggiungere Ok Questa stabilità qua E vado a fissare la telecamera con la vite sottostante Controllo di nuovo di non aver spostato la telecamera in maniera laterale E non l'ho spostata E andiamo a mettere a posto questo asse qui Perché con l'asse del rollio Noi abbiamo un po' di problemi come vedete Perché la telecamera sta molto verso sinistra Cosa andrò a fare? Andrò ad aprire la vite che ferma l'asse del roll E Allargo Ve lo mostro da di qua Che così lo vedete meglio Era Vedete Così Cade Verso La destra Della telecamera Vado a Aumentare questo Continua a cadere verso destra Sono movimenti millimetrici Che Mi permettono poi piano piano Di avvicinarmi Alla Perfezione del bilanciamento Perché quello che mi interessa è Avere una telecamera che poi Sta bilanciata Non preoccupatevi sul fatto che ruota Perché non abbiamo ancora messo a posto il terzo asse E Mi sposto Ancora Un po' Ok Direi che più o meno ci siamo Poi Adesso dovremo andare A mettere a posto L'asse del tilt Quindi questo asse qui Perché Dovrà rimanere ferma Perfettamente In qualsiasi direzione In qualsiasi posizionamento Lo andremo a mettere E molto probabilmente Poi dovremo andare a ritoccare Qualcos'altro Comunque Andiamo a sbloccare Anche L'asse del tilt E Lo portiamo un attimo più sopra Come facciamo a calibrare Questo asse Mentre Con questo Riuscivamo a vedere La Orizzontalità Diciamo E con questo Riuscivamo a vedere L'orizzontalità Del posizionamento Del piatto Della telecamera Con questo La soluzione più comoda È quella di cercare Di trovare Un Bilanciamento Abbasso Sempre i movimenti millimetrici Riproviamo E Ci siamo Sembra aver preso Abbastanza La posizione Di fatto in qualsiasi posizione Mi metta Vedete che adesso La telecamera Rimane Bilanciata Ok Quindi Mi metto in qualsiasi posizione Anche Verso L'alto O Verso Il basso E la telecamera Rimane bilanciata Rimane L'asse Della Imbardata Quindi l'asse di rotazione Che non è per nulla Bilanciato È un asse Che spesso viene sottovalutato Invece è molto utile Soprattutto nel momento In cui Vengono utilizzati Movimenti di rotazione Su questo asse Adesso va molto di moda La ripresa tipo Inception Ed è molto utile Che questo sia bilanciato Altrimenti Sforzerà tantissimo Questo motore Come faccio? Mi sposto lateralmente Con la telecamera Quindi la inclino Fisicamente Lateralmente In questa maniera qua Ok E guardate che cosa succede La inclino E Automaticamente Questo motore Scivola E dà peso Quindi mi fa capire Che c'è più peso dietro Che davanti Dovrò andare Ad aprire La vite Dell'asse Dell'imbardata E portare avanti La mia barra Fino a quando Il baricentro Della telecamera Non sarà nel punto Esatto In modo che Non vada più A ruotare Vediamo cosa fa Ruota ancora Avete visto Quindi vuol dire Che devo portare Ancora più avanti Il braccio Questo qui Quindi sviterò E porterò Ulteriormente avanti Sempre con movimenti Millimetrici Andiamo lateralmente E Ancora Troppo peso Dietro Quindi andiamo A portarci Ancora un pelo Più avanti Iniziamo a vedere La luce Quindi dovremmo Quasi esserci Eccoci qua Vedete che adesso La telecamera Rimane Perfettamente Bilanciata Anche Lateralmente Perfetto Quindi Qualsiasi posizione Andiamo A far assumere Alla telecamera Adesso la telecamera Sarà Egregiamente Bilanciata Automaticamente I motori Sforzeranno Molto di meno Durante il lavoro Con il gimbal acceso Andiamo ad accendere Il gimbal Eccolo qui E adesso È perfettamente Bilanciata Senza nessun Tipo di sforzo Dei motori Anche nel momento In cui vogliamo Magari andare A fargli fare Un Inception mode Quindi Questa Posizionamento qua Ruotando la telecamera In questa maniera Qua Senza Sforzare Se non avessimo Calibrato Il motore 3 Quello che abbiamo Calibrato Alla fine Avremmo avuto Un grosso Problema 1 2 3 Avremmo avuto Un grosso problema E molto probabilmente Il motore Avrebbe iniziato A vibrare Mentre Lo utilizzavamo Così in questa maniera Non abbiamo Nessun tipo di problema Non abbiamo Nessun tipo di sforzo E riusciremo ad utilizzare Alla grande Il nostro Gimbal Bene Spero che vi sia piaciuto Anche questo video In cui vi ho spiegato Come calibrare Un gimbal Ricordatevi sempre Che la telecamera Deve essere già predisposta Con batteria Con la lente Che volete montarci sopra Con il millimetraggio Se la lente È uno zoom Quindi cercate Di evitare Di spostare poi Il baricentro Della telecamera Una volta Che avete fatto La vostra calibrazione E ricordatevi Di togliere Il coprilente Perché questo È uno degli errori Che faccio più spesso Perché me lo dimentico Sopra all'ultimo momento E poi devo Ricalibrare tutto quanto Spero che questo video Vi sia piaciuto E sia stato utile A tanti di voi Cliccate mi piace Su questo video Se vi è piaciuto Ricordatevi di iscrivervi Al canale E di attivare La campanellina Per rimanere aggiornati Su tutte le uscite Dei prossimi video Ricordatevi che ci vediamo Il martedì Con la diretta Il mercoledì Con questa tipologia Di video E con le videoproduzioni E il giovedì Con i tutorial Su Da Vinci Resolve A me non resta che salutarvi E dirvi Ci vediamo con il prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti.